magi ciao a tutti ragazzi e niente come saprete alfa romeo torna nella formula 1 il marchio torna nella formula 1 e sono veramente veramente molto contento e per cui ho deciso di farvi vedere il videogioco penso uno dei pochi o forse l'unico videogioco ispirato totalmente a all'alfa romeo e questo è veramente un gioco carino di qualche anno fa almeno una decina di anni fa la mi è piaciuto molto la fisica adesso lo sto provando per la seconda volta con delle impostazioni assurde però vabbè proviamo questo è il gameplay diretto con le impostazioni originali cioè impostazioni base molto molto mi piace molto veramente la fisica perché è veramente fatta bene ecco purtroppo l'italia nel mondo videoludico è quasi assente però ecco per quanto riguarda i giochi di corse quelle ci sono sempre grazie al cielo quindi niente vi faccio vedere un po un giro e basta perché è solamente un video dimostrativo anche se è un gioco di tantissimo tempo fa molto molto carino attenzione perché si fa sempre fatica purtroppo ma ce la facciamo comunque arrivare alla alla partenza ok spero vi sia piaciuto ci vediamo in un prossimo video magari se se riesco a spegnere quest'altro ciao